Fino al 20 settembre, presso i lidi balneari Tricoli e Paranza di Crotone, i cittadini affetti da disabilità motoria potranno accedere al mare e alla spiaggia utilizzando la sedia Job. Il progetto Mare senza barriere è stato presentato dal Rotary Pitagorico, guidato da un paio di settimane dalla Presidente Vittoria Azzurlo. Diciamo che questa aprirà le danze dell'anno sociale. Quest'anno il Rotary Club di Crotone porrà particolare attenzione a una delle linee guide del Rotary International a favore della promozione della diversità, dell'equità e dell'inclusione. Forniremo a due lidi cittadini, grazie alla collaborazione di diversi soggetti privati, due sedie Job che serviranno per garantire la fruizione del mare ai soggetti affetti da disabilità motorie. I soggetti affetti da disabilità molto spesso è negata l'accesso al mare e alle spiagge. Mare senza barriere rappresenta un valido esempio di collaborazione tra enti, associazioni e imprese. Le sedie Job sono state messe a disposizione dalla società RentBots KR guidata da Francesco Lombardo che già in passato aveva sposato iniziative rivolte al sociale. Quindi in collaborazione con Rotary, in collaborazione con il Lido Tricoli e Lido Paranza abbiamo pensato di investire su queste tipologie di sedie per dare la possibilità ai diversamente abili dal punto di vista motorio di usufruire queste sedie, poter camminare con queste sedie sulla battigia visto la loro peculiarità delle sedie Job e poter entrare tranquillamente in acqua anche in autonomia con le sedie e in perfetta sicurezza. Iniziativa importante alla quale guarda con attenzione il comune nell'ottica di una collaborazione con i club service e le associazioni. Oggi da soli non si va da nessuna parte, peraltro lo dice la Costituzione, il principio di sussidiarietà orizzontale richiede proprio che gli enti locali, la pubblica amministrazione in generale stia insieme ai privati, alle organizzazioni sociali e del territorio per cercare insieme di dare delle risposte. Grazie a tutti.